Gian Piero Gasperini, quanto è importante questa vittoria? Questa vittoria mi ha dato grandissima soddisfazione, grandissima consapevolezza perché vincere oggi contro questa squadra, ribaltare il risultato, questo campo sarà difficile per tutti e noi l'abbiamo fatto con volontà, con qualità, con determinazione e con una squadra che vuole ancora essere protagonista. Non sembrava aveste giocato giovedì? No, un po' perché avevamo tanti cambi, però perché stiamo bene, non era quello il problema del recupero anzi, il fatto di aver perso, pensavo ci desse un po' di adrenalina in più, invece all'inizio eravamo un po' sotto tono rispetto a loro, però sono venuti fuori, abbiamo toccato le corde giuste e sono venute fuori la squadra che la vittoria di oggi sarà molto utile per noi, per il proseguo. Più mentale la stanchezza, anche perché siete dovuti arrivare al Ghevi Stadium il mercoledì, non si gioca, poi il giovedì, insomma non è stato semplicissimo. No, no, quello obiettivamente no, siamo usciti da quei due giorni sicuramente tutti quanti, soprattutto anche delusi da non aver superato una qualificazione che era alla nostra portata, eravamo consapevoli, però siamo anche consapevoli che noi abbiamo fatto una buona partita. La partita di mercoledì col Villareal a noi ci ha dato consapevolezza, non dubbi. Poi dopo il calcio è fatto anche di queste cose in una striscia di dieci partite, magari una va anche così, ma noi stiamo bene e oggi abbiamo fatto un passettino in più. A proposito di strisce, su nove partite in trasferta, otto le avete vinte e una pareggiata, ma soprattutto per la prima volta nella storia sei vittorie consecutive in trasferta. Sì, quella di oggi, è chiaro, abbiamo vinto a Torino con la Juve, abbiamo vinto a Napoli, abbiamo vinto su campi difficili, quella di oggi era un campo difficile, perché il Verona qui ha fatto tante vittorie, forse un solo pareggio e poi è una bella squadra, è un'ottima squadra che ti crea delle difficoltà e noi le abbiamo avute e poi siamo stati capaci di superarle e di superarle anche molto bene. Adesso testa al sorteggio o alla Roma? Io alla Roma, il sorteggio indubbiamente, ma il sorteggio è imprevedibile, e all'Europa League ci penseremo a febbraio. Intanto abbiamo due partite a arrivare a Natale, intanto mi sembra che abbiamo fatto record di punti giorno andato e abbiamo due partite a giocare. Abbiamo la Roma, abbiamo il Genoa e poi ricominciamo col Torino. Poi non so più il calendario perché è stravolto, non ho più capito come funziona il ritorno, devo andarmelo a rileggere perché non me lo ricordo. Non so, avremo Coppa Italia, avremo Europa League, ma noi possiamo giocare su tutto, su tutti i fronti, senza alibi, possiamo giocare per... Per tutte le competizioni abbiamo un rosa e abbiamo possibilità di cercare il massimo in qualunque partita.